Ciao a tutti, bentornati e benvenuti nel canale. Questo è il secondo video che registro oggi, nel quale vi voglio parlare dei miei ultimi acquisti che ho fatto. Ne ho già registrato e caricato un altro, nel quale vi parlo dei miei acquisti fatti online, e quindi vi lascio qui il link per andarlo a vedere se ancora non l'avete fatto. In questo video invece parliamo delle cose che ho acquistato nei negozi, e anche magari qualche altro posto. Inizio subito con un paio di scarpe che vi avevo già fatto vedere qualche video fa, e parlo delle Victoria. Le Victoria sono queste scarpe con la parata, da ginnastica, molto sportive, un po' da tennis magari, che sono carinissime. Le ho pagate 39,90 da AW Lab, Athletics World, credo. Una particolarità di queste scarpe è che profumano come le scarpe di bambini o delle bambine, insomma. Ovviamente usandole da parecchio, non sono più bianchissime, però penso di poterle lavare con una pezzetta, anche perché sono fatte di tela sopra, quindi questo è molto utile. Seconda cosa che ho acquistato, non so assolutamente come farvela vedere, sì, sono una persona abbastanza allegra, ma a vestirmi di bianco e nero, quindi la maggior parte delle cose che ho comprato non sono colorate, nonostante sia estate. Sono andata ad H&M con i saldi, ma non ho trovato nulla di che, non c'era nulla che mi colpisse particolarmente, se non questo vestito che però costava intorno ai 15€, sotto rilascio giù tutti i prezzi precisi delle cose che ho acquistato. Io ora cercherò di farvelo vedere, è questo qui, quindi è lunghissimo, io sono alta 1,63 e lo indosso a volte con le vittorie appunto, e mi arriva proprio qui, quindi non tocca per terra, però ogni tanto magari lo alzo per non inciampare. Insomma, io me ne sono innamorata, lo indosso la sera, perché magari di giorno, cioè non magari, di giorno col sole e, cioè, che nero siamo passi, tipo adesso, vabbè. Passando da Promod invece, che è un negozio che io ho trovato a Porta di Roma, ho preso questa scort, che appunto è ripresa da Zara, perché credo che abbia fatto la prima, poi non lo so. Davanti, sembra una gonna, invece sono dei pantaloncini, è fatta tipo un materiale che sembra un po' in panno, non so adesso come spiegarvelo, è questo qui, e non mi ci vedo tantissimo, nel senso, ancora non l'ho indossata una sera completa per riuscirci, non so perché, forse perché non sono abitata a vedermi con le conne, e da davanti questa sembra effettivamente una gonna. Comunque ha la zip qui di lato, ha le tasche, che è, cioè, una cosa comodissima. Un altro negozio dal quale ho acquistato è stato Tallyway, e la prima cosa che ho preso è stata questa borsetta olografica, che è fatta così, cioè, a me piace troppo, proprio tanto, 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 e ha questa catenella qui, quindi si può tenere a tracolla. Questa non c'è, semplicemente non si poteva lasciare lì, perché veniva 22,95€, e l'ho pagata nemmeno 5€, nemmeno 5€. Dentro è nera, e anche due, diciamo, taschine, dove tenere di solito magari il cellulare, i chiavi. Io ero proprio alla ricerca di una borsetta per uscire la sera, la cercavo bianca, in realtà, da abbinare con i sandali che avrei visto nel scorso video, dell'All Online, però l'ho trovata olografica e non ho resistito, perché io sono andata infissa letteralmente con l'olografico da quando l'ho visto spessissimo nei video di Evelina Berry o di anche Gem, sì, come sempre delle persone che menzionano nei miei video vi lascio link qui sotto. E quindi, niente, mi sono ispirata a loro e appena l'ho vista, l'ho presa. Da abbinare a una gonna che vi farò vedere tra poco, questa l'ho comprata oggi, quindi è ancora il cartellino, ho comprato due crop top, io non ne avevo e quindi ho deciso di prendere questo crop top bianco, semplicissimo, a mezze maniche, con lo scollo rotondo, sia davanti che dietro. Ultima cosa acquistata da Talipel è stato un altro crop top ed è questo qui. Io penso che questo sia veramente bello, infatti ho speso più di 15 euro e non era proprio un acquisto da fare, però mi ha colpito tantissimo, è veramente bello con tutti questi triangoli, contornati con il perimetro verde, che è un ricacciato geometria delle elementari. Sulla schiena ha tutta questa zip, vera, anche qui, quindi che si apre veramente, e ai lati ha queste tre strisce con due parti aperte, sia da un lato che da un altro, e anche questa è molto, 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 molto carina. Passiamo quindi al reparto bancarelle. Questa l'ho acquistata, una bancarella vicino ai prati, però penso che potete trovarle ovunque nelle bancarelle. Io cerco una con una vita alta nera, ma tutta l'estate l'ho cercata da Verska, da altre parti, ma magari una volta era il materiale, una volta era il prezzo, insomma, per varie ragioni non l'ho mai acquistata. Poi sono capitata in questa bancarella e ho trovato questa, che è una con una nera, appunto, a vita alta, e è fatta di quel materiale trasparente sotto, però dentro ha questa parte nera, che appunto è, innanzitutto, molto elastica, ed è molto, anche, coprente. Quindi questa è la con una alta alla quale voglio abbinare questi due crop top. Parlando sempre di bancarelle, proprio ieri sera ho acquistato questa collana, che è una di quelle collanne, appunto, grandi, molto elegante, secondo me. In realtà non so nemmeno come metterla, però, intanto l'ho presa, perché, credo, si inizara. Credo ne avesse una, tempo fa, che vendeva, che era molto simile, ed è fatta così, con questi, appunto, gemmoni, scuri, bella, non ho saputo resistere, anche perché veniva a 7 euro, e poi, appunto, qui dietro, tutto il feltro, che non fa male, quando appoggia qui, e non fa nemmeno un cattivo odore, perché io ho altre collane grandi, magari in metallo, e dopo un po', ho rilasciato in segno verde, perché non sono argento, oppure, comunque, danno il cattivo odore, proprio di ferro, Di metallo. Invece questa qui, credo sia stato un ottimo affare, sia per il pezzo, sia per come è fatta. Ad altre bancarelle, sempre qui a Scalea, in Calabria, che è il paesino dove sto in vacanza, ho comprato queste due cover, una è l'Imitazione della Moschino, quella con, appunto, l'immagine delle patatine, delle McDonald's, con parole M di Moschino, e credo l'originale abbia anche la scritta, l'originale è anche tutta completamente in pastilla gommosa, questa è semplicemente una mini riproduzione, intorno è gommata, ed è trasparente, e l'altra cover che ho preso, è stata questa qui, con questo French Bulldog, tutto arrabbiato, tutta gialla, e anche questa qui ha, l'intorno, ma che vuol dire? Ha la parte intorno, che è gommata, ed è trasparente, e questa l'ho pagata 3,50 euro, insomma, sempre contrattando con i marocchini, perché partono 10 euro, un'altra cosa che ho comprato, alle bancarelle, questa volta a Diamante, un paesino qui vicino, è stata questa, ragazzi, mi ha conquistato subito, è una palettina di ombretti, di violetta, i colori sono talmente belli, e poi ovviamente li ho sbocciati, e sono anche molto, non sono né cremosi, né polverosi, un mix, ed ho già provati, stanno su, stanno su benissimo, sull'occhio, ecco, non so esattamente cosa mi sto spalmando, però, io metto sempre un primer, quindi dai, non penso di morire, per gli ombretti di violetta, ecco, questi sono i tre che preferisco, e sono il verde, l'arancione e l'oro, questa l'ho pagata soltanto 3 euro, e quindi, non me la sono fatta scappare, comunque l'ho vista spesso, anche in altre bancarelle, quando magari vedete tutte quelle cose di violetta, che attirano i bambini e le bambine, buttate un occhio se magari ci sono queste palette, perché ci sono, perché ce ne sono altre tre, con altre colorazioni, però questa è stata quella che a me ha colpito di più, e quindi l'ha comprata, un altro acquisto, è lo smalto che, mi vedete addosso, sa che avrei dovuto cambiarlo, o almeno, ripassare questo qui, ma, non ho avuto tempo, ed è questo smalto della Wicon, perché, amo lo smalto Bordeaux, credo che sia, un must have, sia in inverno, che in autunno, che in estate, la formulazione mi piace molto, certo, sempre due passate, ho dovuto fare, per avere una bella coprenza, però ormai mi sono abituata, che con quasi tutti i smalti, se non tutti davvero, faccia una doppia passata, ultima cosa che ho acquistato, e non riesco a trovare adesso, quindi la metterò in sovraimpressione, sono questi orecchini, che ho comprato da Accessorize, nei quali c'è rappresentato, un elefantino indiano, sono argento, e sono bellissimi, io, come avrete capito, indosso solo orecchini stud, non lo so, sta passando ormai da due anni, questa fase, che non indosso pendenti, e ultimamente, mi piacciono anche tantissimo, gli elefantini, proprio l'elefante come animale, quindi non potevano comprare, e io adesso, sono stata completamente sporca, di verde e violetta, e questi sono stati, tutti i miei acquisti, che ho fatto, tra bancarelle, e vari negozi, che vi ho specificato, vi ricordo ancora una volta, che qui giù, in info box, trovate tutte le informazioni, che volete, anche questo video, l'è terminato, e vi ringrazio tantissimo, per averlo visto, se vi è piaciuto, se vi è tenuto compagnia, lasciate un mi piace, e commentate qui sotto, se vi è piaciuto, quello che ho acquistato, e se avete fatto, altri acquisti, voi magari, nei negozi in cui sono stata, e mi sono persa qualcosa, mi vado a struccare, vado a mettermi in costume, e vado a tuffarmi al mare, e spero che anche voi, stiate vivendo, un'estate fantastica, ci vediamo al prossimo video, e un bacio a tutte quante, ciao!